Se stai avendo difficoltà ad aprire così il gioco Silent Hill 2 Remake, il remake che hanno adesso realizzato e hanno fatto uscire sul computer, ma c'è chi ha avuto problemi ad avviarlo, quindi in questo caso i problemi sono sempre i driver vecchi, che non riescono così a sopportare il gioco e quindi non si avvia oppure può anche crashare. Quindi in questo caso assicurati sempre di scaricare e aggiornare i driver per la tua scatagrafica Nvidia oppure AMD. Ovviamente tu sul sito che ti ho lasciato in descrizione vai a scegliere così la categoria della tua scatagrafica, io vado a mettere GeForce, vado a mettere la mia serie 30 e vado ad inserire così la scatagrafica 3070, Windows 11. Versione Italiano E facciamo Trova Risultati trovati, abbiamo i driver GeForce Game Ready, quello per i giocatori e poi i driver Nvidia Studio per chi usa il computer per lavorare. Quindi tu devi scaricare e installare questo driver grafico per la tua scatagrafica. E poi devi riavviare il sistema. Per AMD invece c'è il programma AMD Software, Adrenaline Edition, lo scarichi così il software, lo installi e funziona come il programma Nvidia App. Ed eccolo qua. Driver, cerchi così driver sotto a scheda video, grafica per configurare così la grafica sui giochi, sistema e i premi che rilasciano ogni tanto. Quindi io non posso farti vedere come funziona questo programma perché il mio computer non lo sopporta. Quindi tu devi scaricare e installare Nvidia App. Quindi è molto comodo il programma Nvidia App per rimanere sempre aggiornato sui driver e fare sempre aggiornamenti sulla tua scheda video Nvidia. Quindi scarichi la beta e la installi. Controlla anche se devi fare degli aggiornamenti su Windows Update, verifica disponibilità, aggiornamenti. Verifichiamo così se ci sono degli aggiornamenti da fare su Windows. Se ci sono, li scarichiamo, li installiamo e poi riavviamo il sistema. Poi andiamo direttamente su grafica, quindi vai su impostazioni grafiche, vai ad aggiungere un'app desktop, vai direttamente nella cartella del gioco di Silent Hill 2 Remake. Quindi vado nella cartella del gioco, vado a prenderla ed eccolo qua, Silent Hill 2 Remake. Lo inserisco qua. Scendo fino a giù fino a trovare il programma. Eccolo qua, Silent Hill 2, preferenza scheda video. Lascia la scelta Windows, ogni tanto Windows può usare altre cose, quindi non usa proprio, certe volte non fa proprio il suo lavoro, quindi preferenza scheda video. Facciamolo noi manualmente, quindi misuriamo la nostra scheda grafica qua dentro. Se non dovesse bastare, se poi non funziona, file ripristino, quindi ripristino le impostazioni predefinite. Facciamo reimposta. E li metti la tua scheda grafica. Ottimitazione per i giochi in modalità finestra, metti attivato. E chiudiamo qua. Se non dovesse bastare, tasto destro sopra, mostra attropazione, proprietà, compatibilità, disabilità di schermo intero. E basta. Esegui sempre questo programma come amministratore e fai applica. Se non si avvia con questo programma come amministratore, togli la spunta. E salva così la configurazione. Ora, andiamo, tasto destro su Start, questo qua di Windows, gestione dispositivi. Assicuriamoci che la nostra scheda grafica sia ben aggiornata. Aggiorna driver, cerca driver nel computer. E scegliamo così da un elenco di driver disponibili. Metti la tua scheda grafica, fai avanti, installi e aggiorni. Basta. Se non dovesse bastare, puoi semplicemente scaricare anche il DirectX Web Installer. Eccolo qua. Andiamo così a scaricarlo. Lo installiamo anche. Accettiamo il contratto. Fai avanti. Non installare questo bing toolbar. Fai avanti e lo installi. Quindi, aggiorna sempre la tua scheda grafica, aggiorna sempre il tuo sistema operativo, quindi su Windows Update. Avvia sempre i giochi o altri programmi come amministratore, tasto destro sopra, esegui come amministratore e avvia il gioco. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.